C'erano anche le eccellenze venete nella sala del Quirinale per celebrare la giornata delle malattie rare e tra queste l'associazione Mauro Baschirotto che opera strenuamente da decenni a Longare nel Vicentino cercando di abbattere le barriere della malattia a colpi di ricerca scientifica. E mentre a Roma il Presidente della Repubblica spiegava che è necessario uno sforzo corale tenendo sempre aperto il dialogo tra grandi istituti di ricerca e centri indipendenti e sollecitando le case farmaceutiche ad affrontare le patologie rare, nelle sale dell'associazione malattie rare Mauro Baschirotto a Longare il professor Santi Tofani, biofisico a retino, teneva una conferenza che aprirà forse la strada ad un nuovo modo di affrontare le malattie genetiche e alcuni tipi di tumore. Una cura che non usa bisturi o farmaci ma si affida ai campi magnetici, studi che il professore conduce da più di vent'anni. Abbiamo pensato che forse sia opportuno passare dal livello della chimica, cioè dalla molecola, al livello dell'atomo e quindi abbiamo iniziato questo progetto con risultati molto importanti, tanti importanti che anche il premio Nobel della medicina 2008 li ha ripresi e che in questo momento la Cina, il governo cinese, ha deciso di finanziare un progetto per continuare i nostri studi. La rivoluzione condotta da questi studi indaga il modo in cui gli elettroni possono riprogrammare il corretto funzionamento delle cellule nel momento della loro riproduzione. Le cellule si riproducono anche quando il DNA è sbagliato e quindi nasce il tumore o altre malattie componenti genetiche. Noi vorremmo veramente andare a comunicare con questi elettroni per far sì che questi elettroni non consentino più a questi meccanismi di non funzionare come dovrebbero funzionare. Lo studio è ancora in fase sperimentale ma sta producendo risultati sorprendenti. Il nostro studio in questo momento è uno studio basato su cellule, su animali, tanti esperimenti animali. Tutti questi esperimenti hanno consentito di dimostrare che effettivamente questo trattamento, questo approccio nuovo, che potrebbe essere considerato come un approccio che è basato non sulla biologia molecolare ma sulla biologia atomica, cioè uno step ahead avanti rispetto alle conoscenze attuali. Gli effetti antitumorali sono forti, importanti, confrontabili, a volte superiori a quelli del farmaco, ma senza nessun effetto collaterale visto sugli animali. Questo è il risultato che abbiamo e grazie a questi risultati appunto in Cina si sta facendo dei lavori, delle sperimentazioni che portano dei risultati importanti. La ricerca del professor Tofani ha incrociato l'Istituto Baschirotto di Vicenza attraverso il lavoro di un'associazione culturale a retina. È un'associazione che si prefigge all'obiettivo appunto di tenere alta la storia, la cultura.